buongiorno a tutti ci troviamo al castagno del balè un posto magico e avventuroso avventuroso perché la rassegna viaggi 2018 sarà nel segno dell'avventura partiremo con una moto e andremo fino a capo nord andremo piedi per i deserti salati della bolivia ci metteremo poi il sciolpinismo per visitare i fiordi e le vette della norvegia andremo con una vecchia panda fino in giappone visiteremo sentieri selvaggi e antichi in centro italia andremo poi con una macchina del tempo fino a belfast ma esploreremo anche la foresta amazzonica ogni giovedì dal 5 aprile al centro culturale di quero dalle foreste ghiacciai ritorno all'avventura la nuova rassegna viaggi organizzata dal centro culturale di quero vi aspettiamo numerosi